Coronavirus, morto un 65enne di Gambellara, l'epidemia è in calo, su 543 tamponi, nessun positivo. Inizia la nuova fase delle mascherine, il Veneto guarda avanti, zai appesa alle aperture tra regioni. Degrado in via Gorizia, ropi servizi di rete veneta, la polizia locale sequestra droga. Schio Blitz delle Fiamme Gialle, denunciato 36enne, scoperta a Serra Professionale di Mariuana. Domani Festa della Repubblica, il Sindaco rinnova l'ordinanza anti-assembramento. Sicurezza sanitaria e distanze sociali, camion e plateatici, vasi e piante, barriere anti-Covid. TG Vicenza, una buona serata a RuTV e telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Subito diamo uno sguardo alla tabella, al report divulgato da Azienda Zero per quanto riguarda i nuovi casi positivi. Allora, nella giornata di oggi, nel 17, si è registrato un nuovo caso positivo, siamo a un totale di 19.155. 1.594 sono i soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece le persone che si trovano in area non critica, quindi ricoverati in ospedale, in area non critica e in terapia intensiva, due segni meno, meno uno in area non critica, 376, meno un paziente in terapia intensiva, siamo arrivati a 27. Si sono registrati due nuovi decessi a livello regionale per un totale di 1.379 persone decelute dal 21 febbraio ad oggi. Per quanto concerne invece l'Ulss 8 Berica, vediamo subito che si registra un nuovo decesso, si tratta di un uomo di 65 anni di gambellara e su 543 tamponi eseguiti nessuno è risultato positivo. Quindi insomma questi sono gli ultimi dati. E tra l'altro oggi è stato il primo giorno con le nuove regole che riguardano l'utilizzo della mascherina e intanto però il governatore Zaia pensa già ai prossimi passi per quanto riguarda i legami con le altre regioni. Primo giorno con le mascherine a mezzo servizio e già il Veneto guarda i passi successivi verso una nuova normalità. Sugli spostamenti fra regioni ad esempio il presidente della regione Luca Zaia è molto chiaro. Per quanto riguarda gli spostamenti vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere o imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione nella responsabilità. Ci sono delle regole da rispettare che sono quelle dei dispositivi. E a chi fa polemica sull'ordinanza che regola l'uso delle mascherine il presidente risponde che Il dispositivo ovvero la mascherina oggi viene utilizzato secondo le regole previste dal DPCM. Quindi non c'è nessuna volontà di fare prove muscolari o di fare i primi della classe. Vi ricordo che il DPCM prevede ambienti chiusi oppure in l'aria aperta quando non c'è distanziamento sociale quindi c'è assembramento. E torniamo ad occuparci oggi della situazione di degrado che è stata segnalata da tanti voi telespettatori che abbiamo riportato con i nostri servizi. Siamo in Via Gorizia. Via Gorizia, l'altro Campomarzo, l'altro outlet della droga. Gli occhi elettronici riprendono uno spaccio di stupefacenti che avviene proprio sotto alle telecamere di videosorveglianza. Noi di Rete Veneta nei giorni scorsi avevamo segnalato più volte situazioni sospette. Strani passaggi di mano in mano di qualcosa e chissà di cosa. Avevamo pubblicato video e foto che voi telespettatori ci avete mandato in redazione. In un messaggio addirittura un cittadino testimoniava una decina di immigrati stabili nella via con traffici e spaccio alla luce del sole e pedoni che si fanno timidamente spazio per il passaggio. Ecco sindaco, video e immagini che abbiamo mandato in onda nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, su cui siamo tornati più volte ultimamente e che documentavano dei passaggi sospetti, delle presenze sospette. Presenze sospette che oggi vengono in qualche modo confermate. Sì, sono confermate. Abbiamo visto i servizi di Rete Veneta naturalmente. Abbiamo fatto tesoro e abbiamo organizzato un'operazione di polizia locale con i NOS. Quindi attraverso il sistema di videosorveglianza molto efficace in via Gorizia e in Campomarzo siamo riusciti a rilevare la presenza di queste persone, andare a colpire i consumatori. E quindi abbiamo proceduto con la sanzione amministrativa e la segnalazione alla prefettura. Grazie al pronto intervento degli agenti del nucleo operativo speciale della polizia locale di Vicenza è stata sequestrata eroina, cocaina, marijuana e sono stati identificati e segnalati tre consumatori. Ovviamente fondamentale è stato l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, infrastrutture di sicurezza che oggi più che mai vanno rafforzate. C'è un ottimo servizio, abbiamo implementato il servizio NOS che sono appunto la videosorveglianza della polizia locale e stiamo lavorando in nuove telecamere come annunciato nei giorni scorsi, altre quattro in Campomarzo e ne faremo ancora delle altre. Proprio per video riprendere queste situazioni e fare in modo che il cittadino che vuole comprare droga in Campomarzo venga beccato, denunciato e segnalato alla prefettura con tanto di sanzione amministrativa. Bene, ringraziamo il sindaco, ci fa piacere sapere che alle segnalazioni dei cittadini tramite Rete Veneta le autorità rispondano in modo tempestivo come è avvenuto oggi. Continuate a inviarci i vostri video, le vostre foto che documentano situazioni di spaccio, situazioni sospette davanti a casa o come in questo caso in via Gorizia e noi continueremo a portarle al sindaco e alle autorità competenti. Quindi per quanto riguarda oggi, direi, pollice in su, missione compiuta. E siamo alla cronaca fatale, una caduta dal motorino per un uomo accaduto in zona Sant'Agostino oggi pomeriggio, è intervenuto il suo M118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. Questa e altre notizie sempre di cronaca dal resto della provincia. Schio, un 36enne, è stato denunciato dagli uomini della Guardia di Finanza per aver avviato una consistente produzione di cannabis in casa propria. Aveva allestito una serra professionale dove, con metodo scientifico, coltivava marijuana. I finanzieri hanno sequestrato essiccatoi, fertilizzanti, reagenti, kit di aree, azione e bilancini. L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di 400 grammi di foglie essiccate e di una pistola elettrica Taser. Due cittadini pakistani di 21 anni sono stati aggrediti con pugno al volto nella tarda serata di ieri in piazzale della Vittoria Vicenza ad intervenire i carabinieri del radiomobile. Le vittime, che hanno rifiutato le cure, hanno affermato di essere stati aggrediti senza motivo da giovani di origine nordafricana. 90 a Vicentina i carabinieri hanno portato in carcere un 32enne di nazionalità marocchina perché è ritenuto colpevole di una rapina avvenuta a Masi, nel Padovano, nel 2017. L'uomo, che era già agli arresti domiciliari, dovrà ora scontare una pena di un anno e cinque mesi di reclusione nella casa circondariale di Vicenza. Arzignano, avventura a lieto fine per una famigliola di otto anatroccoli salvati dai vigili del fuoco. I paperotti erano scivolati lungo una griglia all'interno di una roggia in via 25 Aprilè e non erano più riusciti a risalire a riva. Gli uomini del nucleo sommozzatori sono intervenuti, restituendo così a mamma papera i suoi cuccioli. Adesso ci occupiamo ancora una volta degli assembramenti, soprattutto nei giorni, nelle serate della Movida Vicentina. E tra l'altro c'è lo stesso sindaco Rucco che, in occasione della festa di domani del 2 giugno, invita tutti i cittadini a rispettare le regole. Invito tutti, domani 2 giugno, a evitare gli assembramenti, rispettare la distanza sociale e quindi divertirsi però con intelligenza. 2 giugno si riaccende la Movida ma con intelligenza. Con questo invito il sindaco di Vicenza chiede a tutti i cittadini di vivere una giornata di festa con senso di responsabilità e soprattutto nel pieno rispetto delle regole. Si sta andando verso un allentamento delle regole e delle prescrizioni, questo è un fatto molto importante, già il fatto stesso che la mascherina non sia obbligatoria all'aperto se non con la distanza, quindi è un dato importante. Stiamo però lavorando sulla sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto nei luoghi di assembramento come la Movida. Abbiamo deciso di prorogare l'ordinanza anti-alcol della Movida fino al 14 giugno che coincide con la scadenza dell'ordinanza regionale del Presidente Zaia. Questo proprio per poter uscire dalla fase critica in maniera progressiva, sempre più allentando queste prescrizioni e dando la possibilità ai cittadini di tornare finalmente a una vita normale. Domani anche le celebrazioni vanno di scena in forma ridotta. La cerimonia della Festa della Repubblica si svolgerà con sindaco, prefetto e quattro agenti in alta uniforme nella loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori, dove verrà deposta una corona d'oro alle due lapidi dei caduti vicentini durante la guerra di liberazione. Intanto continuano i controlli anti-Covid. Nell'ultima settimana, su 1992 verifiche della Polizia Locale, solo due persone sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina. Mascherina che da oggi non è più obbligatoria all'aperto, tranne in caso di assembramenti. Dunque, attenzione alle distanze e alle regole, soprattutto durante le festività, a cominciare da domani. Solo così si può fare un passo avanti verso il ritorno alla vita. Domani è 2 giugno, è necessario evitare gli assembramenti, è necessario quindi mantenere le distanze sociali e torneremo finalmente a divertirci in compagnia con gli amici e socializzando come prima. E per quanto concerne i locali, vengono ampliati i plateatici e ci sono anche delle novità. Qui ci saranno tutte delle siepi di varia altezza che dividono sia il perimetro esterno sia l'interno, quindi diventa un vero e proprio giardino verde. Un giardino in piazza Biade, veri e propri schermi vegetali. L'idea di vasi e piante che facciano da barriere green per il distanziamento anti-covid negli spazi esterni dei locali potrà essere riprodotta in tutta la città del Palladio. Restituire alla città un piccolo giardino ulteriore all'interno, ma non solo nel centro storico, anche nelle periferie. Quindi un gesto di sensibilizzazione per aiutare i commercianti a migliorare quelli che sono i plateatici, creare piccoli angoli di verde e una situazione migliore, sia dal punto di vista visivo, anche dal punto di vista qualitativo. Quando sicurezza sanitaria significa anche bellezza estetica. L'epoca del coronavirus ci lascia in eredità l'obbligo di inventare, di ideare nuovi modelli di vita, di socialità. Si dilatano le distanze, si allargano i plateatici. Negli ultimi dieci giorni siamo riusciti a istruire 65 pratiche di plateatici che hanno già ricevuto l'ok per il posizionamento. Insomma, i locali hanno bisogno di nuovi spazi che da oggi diventano anche piccoli giardini. È proprio un'opportunità che intendiamo offrire a tutti gli esercizi pubblici della città, quindi non solo in centro storico ma anche quelli dei quartieri. Sapete che c'è la regola del distanziamento interpersonale di un metro che devono far rispettare e questo diventa un'opportunità per creare delle aree green anche all'interno dei plateatici che stanno di fatto facendo vivere al meglio la città, quindi centro storico e quartieri. E ci sono delle importanti novità anche per quanto riguarda il pagamento di tasse comunali. L'Imu comunale e la tasse in città sarà possibile pagarle a dicembre. La proroga è stata deliberata dalla Giunta per venire incontro alle esigenze dei cittadini in questa difficile fase di ripresa e rilancio dell'economia. Un provvedimento di natura economica in linea con altre misure derivate dall'emergenza Covid, come la mancata corrisponsione della tassa di soggiorno o lo spostamento dell'imposta per la pubblicità. Una manovra che permetterà la dilazione del pagamento di circa 26 milioni di euro grazie al rassicurante attivo attuale della cassa comunale. La nuova data di scadenza è ora fissata al 16 dicembre 2020. Ecco bonus al 110 per 100, un'opportunità per far ripartire la nostra economia. È una grandissima opportunità, un'opportunità mai vista in questo mondo perché c'è la possibilità sia per il committente di fare i lavori a costo zero ma una grandissima opportunità anche per le imprese per lavorare perché si crea un nuovo mercato. Ricordiamo che all'interno del nostro territorio abbiamo tantissime costruzioni degli anni 70-80 che hanno proprio bisogno di effettuare questi lavori di risparmio energetico. I lavori che si possono fare sono i lavori che si chiama il cappotto della casa poi i lavori che riguardano gli impianti, gli infissi e gli impianti termoidraulici. Questa cosa dà una grandissima opportunità anche al mondo delle imprese perché c'è la possibilità di lavorare in filiera. Questa è una cosa nuova che può dare veramente slancio a tutto il settore casa all'interno del nostro territorio. E prima dei saluti ricordo alle 21.15 l'appuntamento con Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli che avrà come ospiti Silvia Carpanese, Rossella Cendron, Elena Donazzane, Elena Larocca, Morena Martini, Sara Pasqualin, Simonetta Rubinato, Silvana Tosi, un parterre insomma tutto al femminile. Questo per noi è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Una buona serata. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Inizia l'estate ed in effetti le condizioni meteorologiche saranno tipicamente estive. Festa della Repubblica dunque con tempo in prevalenza buono. Il dettaglio del 2 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento. Fino al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà della giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti. E anche sulle coste il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature in aumento minime fino a 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra i 24 e i 28 gradi con punte di 29 gradi all'incirca. Vediamo ora nel dettaglio come sarà la situazione a Vicenza. Avremo condizioni di tempo asciutto e stabile. Sarà infatti una giornata di festa ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo con poche nubi. Infine temperature anche qui in aumento soprattutto di giorno. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci. Grazie a tutti.